Lui è l'attaccante, tu sei l'attaccante anche tu con lui, no? Io devo cercare di tagliare fuori lui, quindi io vengo ad attaccare, tu attaccami, devo cercare che tu non passi la palla a lui, quindi sei costretto a fare, a dare uno contro uno, e quindi ti attacco, ok? Se ho sbagliato, torno qua, ok? Devo cercare che diventi un uno contro uno, perché se continuo a lasciarci la possibilità, se io lo attacco così, non passo la palla, no? Non passo la palla facile e vai fuori, se invece mi metto in questo modo, senti che a passare, mi diventa un uno contro uno, ok? Siamo? A posto, torno a posto.